Ben trovati a voi. Ben trovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Insieme Oltre 2000, quest'oggi dedicata al mondo della spiritualità, della cultura, del nostro territorio. Saluto subito i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, ringrazio Don Angelo Barcon che è l'arciprete della concattedrale di Feltre, ben trovato Monsignore. Grazie. Grazie per essere qui con noi, accompagnato dal giovane Eddie Benato che fa il servizio civile presso la concattedrale, ben trovato Eddie. Grazie. Grazie per essere qui con noi, Monsignore cominciamo da lei perché insomma a Feltre c'è grande vitalità, grande fermento in questo periodo e naturalmente l'atmosfera del Palio è ancora molto presente. Domenica è stata una giornata importante. Domenica è stata veramente una giornata importante, tanti visitatori, tanti affezionati al Palio, il Palio è la manifestazione centrale dell'anno per la città, mette in movimento tante forze, soprattutto giovani e questo è il lato più interessante. E diciamo che l'aspetto spirituale è comunque significativo, c'è la messa in costume, giusto? Non c'è solo la messa in costume, a dire la verità. Nelle sere precedenti i quartieri hanno sempre avuto il piacere di una benedizione, un momento anche di preghiera durante la presentazione degli atleti, la benedizione degli atleti appunto, ma anche di un'introduzione dei più piccoli, famiglie nuove che arrivano nei quartieri e che decidono poi di essere fattive e collaborative all'interno del quartiere, la vita dei quartieri. I quartieri di per sé, non possiamo immaginarci soltanto le contrade del centro di Feltre, ma sono composti anche dalle frazioni per cui in realtà c'è tutto il comune di Feltre che partecipa a questo grande evento. Ecco, stiamo vedendo qualche immagine. Ringraziamo la signora che ha fatto questo video, la signora Daniela, giusto? Ricordo bene? Daniela Cingolani, sì. Ecco, grazie alla signora Daniela. Allora, questo che momento è per esempio, don Angelo? Questo è il momento dopo la celebrazione dell'Eucaristia, dove sul piazzale, sul sagrato del Duomo, si presentano i cavalli, vanno presentati i cavalli e i fantini che per la gara del pomeriggio. Quindi insomma, una grande emozione. Qui vediamo il momento appunto anche della preghiera, no? Che c'è stata. Sì, c'è una benedizione tratta da benedizionale, è stata preparata e collodata nei vari decenni, per cui è sempre un momento sentito anche interessante. Della collettività, poi sappiamo insomma anche lo spirito, no? Giocoso, comunque un po' di complicità, ma anche di rivalità che naturalmente si respira. Dobbiamo essere, perché il Paglio è fatto di gare e di contese, per cui insomma c'è grande attesa soprattutto per la gara dei cavalli, perché fa del Paglio di Feltri il secondo Paglio in Italia, è molto interessante. Ringrazio sempre gli organizzatori, c'è una macchina organizzativa che è complessa, non è semplice, ma insomma, l'osservo da esterno, da cittadino, voglio dire, però è un ambiente appassionante, appassionante. Davvero molto significativo e comunque anche la celebrazione ha avuto una grande partecipazione, ci diceva la concattedrale era piena. Quest'anno in modo particolare è stata fatta la scelta di far accedere tutti, non soltanto le coppie, diremmo, con i costumi, ma era strapiena, no? Soprattutto i ragazzi, i giovani, i tamburini, i sbandiratori, gli atleti, i famiglie, e oltre i soliti che frequentano la messa delle 10 e 30. Però insomma è stata una soddisfazione, perché mai si sente il cuore della città a palpitare, insomma, proprio Duomo. Certo, certo. E Duomo a Feltre è sempre stato il centro di ogni attività, insomma, dal sagrato si parte e si arriva per tantissime manifestazioni. Senta, ma Monsignore, in questo periodo comunque ci sono anche i turisti, no? Le celebrazioni sono più partecipate in generale? In generale sì, adesso si è ripreso. Dopo metà luglio abbiamo riprese, abbiamo visto riprendere le visite guidate alla concattedrale, e l'anno scorso le visite contate si sono aggirate circa sulle 3.000 presenze. Quindi insomma, numeri di rispetto per un monumento così. Quest'anno, luglio è stato per il caldo, insomma, abbiamo visto meno o meno giro di persone, però tuttavia adesso abbiamo visto una grande ripresa. Proprio perché anche il turismo religioso, di cui si parla molto, insomma, sta prendendo piede in provincia. Abbiamo un incremento di visitatori inglesi, tedeschi, francesi. Me ne accorgo dalle visite guidate e richieste in lingua, in altra lingua, e anche dai Deplian, in altra lingua, che vengono realizzati. E adesso per i turisti c'è un'altra interessante proposta che viene ospitata all'oratorio dell'Annunziata. Di cosa si tratta, Monsignore? Si tratta di una mostra di ex voto. Sono 16 ex voto, cioè di quadri, di quadretti, di dimensioni 25, 30, 40 centimetri l'uno, dove famiglie o singoli nel corso degli anni hanno ringraziato per una grazia ricevuta, per un pericolo scampato, la vita riacquistata, insomma, la salute riacquistata. E quindi è uno spaccato interessante. L'abbiamo presentata dentro un altro contesto, una mostra, legata a un libro che è stato scritto nel 2020 da Giovanni Trimeri in collaborazione con Gian Antonio Cecchien, che ha dipinto le tavole, sui miracoli della Val Cansoi. Quindi abbiamo inserito questi ex voto che partono dal 1781 fino datati nel 1838 con la particolarità di ampliare un po' il discorso anche in tema moderno. Per cui c'è questo, l'aspetto antico, ma ci sono anche le tavole più moderne con i Santi Val Cansoi. Ecco, qua stiamo vedendo proprio le immagini che sono state realizzate dalla nostra collega Laura Pontin che ha visitato con lei, vero, questa mostra, questo ambiente. Che tipo di fede ci raccontano, Monsignore? Eh, ci raccontano tante belle cose di per sé. L'ex voto vuol dire da un voto fatto. Riconosco che la provvidenza, Dio nei miei confronti, è stata promettente di vita. Allora abbiamo un tempo, un'epoca in cui magari nei grandi santuari troviamo grucce piuttosto che l'immagine di una testa, di una mano, di un braccio, di una gamba. Vediamo questa evoluzione nell'arte anche arrivati appunto ai dipinti. Questi dipinti sono interessanti perché ci mostrano interni di palazzi, interni di abitazioni, costumi dell'epoca, lavori, modalità. Poi i problemi, la salute, l'incendio, piuttosto che il neofragio, una piave di un giovane che si vede salvata la vita. Però appare una forte devozione, per esempio, a Sant'Antonio e soprattutto la Madonna della Pietà, con la Pietà. La Pietà che è stata rifigurata dai fratelli D'Ammello nella cripta della concattedrale, di cui c'è un ex voto che è servito agli storici per ricostruirla prima di quando fosse chiusa e utilizzata come cappella invernale dei canonici sotto l'abside della fine del Quattrocento. Però ci raccontano di una fede del passato o comunque ancora oggi si pratica? Ma a mio avviso, il bisogno di aranciarsi nel momento di difficoltà a una forza, ce l'abbiamo tutti. Quando non ce la facciamo le nostre forze, parte della nostra umanità chiede l'aiuto, cioè sto male e vado dal medico, insomma. Quindi c'è sempre il bisogno di qualcuno che da restare intervenga e questo è un fenomeno religioso che attraversa la storia dell'umanità, almeno dell'uomo di Neanderthal da quando si è cominciato a studiare il senso religioso dell'umanità, da quando ha avuto consapevolezza e tecnica di cambiare la realtà. Qui vedo che la devozione a Sant'Antonio è universale. I quadretti figurano Sant'Antonio che si rivolge alla Pietà e questo è interessante, c'è questo sempre dialogo. Abbiamo anche un ex voto con San Gaetano d'Attiene, c'è una cappella in Via Paradiso nel Palazzo de Mezzan, domani, il 7 agosto è la sua festa, quindi c'è anche la storia di un'evoluzione della spiritualità feltrina. C'è un ex voto a San Filippo Neri, perché nel Seicento un oratoriano scappa da Padova, insegue una pestilenza, chiede a Feltre la possibilità di essere ospitato, fonda un oratorio che era di accente all'Annunciato, ottiene la chiesa di San Rocco per la formazione e il catechismo, quindi si inserisce, si innesta fin ancora, subito dopo la morte, di San Viponeri questa spiritualità oratoriana, e questo, oltre a quella francescana, che è secolare a Feltre, insomma, è adegento. Certo, assolutamente sì. E pertanto, insomma, si vede anche un'evoluzione in questo. Certo, e ci permette di comprendere anche gli usi, i costumi del passato, la storia della popolazione. Adesso coinvolgiamo, dato che parliamo di storia, coinvolgiamo anche il nostro giovane ospite, Edi Benato, che ricordiamo fa il servizio civile alla concattedrale di Feltre. Edi, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo, raccontaci un po' qual è la tua esperienza. Tu sei uno studente e adesso stai facendo, quindi, l'attività del servizio civile. Di che cosa ti occupi? Sì, allora, la mia attività principale consiste nel valorizzare il patrimonio archivistico presente, principalmente proprio nel fondo del capitolo. Principalmente si tratta della contabilità, diciamo, della retribuzione dei canonici, che ancora fino ai primi del Novecento aveva una parte anche consistente, diciamo, nella vita economica e professionale di Feltre. Io ho studiato a Venezia, la scuola di archivistica dell'archivio di Stato dei Frari, e ho deciso, appunto, di svolgere qui il mio servizio civile perché mi sembrava anche una bella occasione per valorizzare un archivio molto interessante che è già stato oggetto dell'attenzione di Silvia Miscellani e Donatella Bartolini che una ventina di anni fa lo hanno riordinato lasciandoci un bellissimo, tra l'altro, contributo scientifico. Quello che stiamo un po' provando a fare, appunto, è farlo conoscere, anche ampliando le ricerche che sono già state svolte dalle due archiviste e mettere poi anche a disposizione, non solo degli studiosi e dei ricercatori, ma del cittadino comune, anche un'altra serie di documentazione relativa, diciamo così, proprio all'anagrafe, quindi alla ricostruzione delle vicende familiari, che invece è stata prodotta dalle due parrocchie che fino al 1917 esistevano nella cattedrale e poi dall'attuale parrocchia di San Pietro. Ecco, tu sei un bellunese, giusto? Sei originario di qui? Io sono di Quero, quindi sì, dal basso Feltrino, ho studiato poi a Feltre, quindi ho deciso di rimanere un po' sul territorio. Quindi si gioca in casa e sfogliando, vedendo, analizzando questi documenti si trovano un po' comunque dei tesori, delle chicche del passato, anche perché le parrocchie erano sempre punto di riferimento per la collettività. Sì, allora, quello che devo dire è ovviamente parliamo di un archivio anche di dimensioni un po' contenute, quindi non possiamo immaginare di trovare grandi tesori, diciamo per esempio, anche come documenti particolarmente sfarzosi, però qualcosa di interessante c'è, ci sono alcuni documenti pontifici anche molto belli, proprio dal punto di vista paleografico e poi soprattutto il grande spaccato che emerge proprio sulla vita sociale dell'epoca. È molto interessante anche poi andare a ricostruire le vicende delle famiglie, sapere anche per esempio tutti i meccanismi anche a volte molto complicati, politici messi in gioco dalle varie famiglie, per esempio per riuscire a inserire i membri dell'elite, dei gruppi sociali più in vista anche proprio all'interno del capitolo del clero più privilegiato, quindi si restituisce un quadro magari anche di una società non sempre così pacifica, però insomma sicuramente molto vivante. E' certo, è interessante, accattivante. Monsignore, è un'attività preziosa, no? Un'aiuto importante quello che sta dando, Eddie? Un'attività preziosa, decisamente preziosa io direi, per i fondi che ci sono nel capitolo, sì, sono sempre stati studiati in base a interessi, diremmo, occasionali. Uno dei grandi conoscitori dei documenti del capitolo fu Mario Gaggia, storico feltrino conosciutissimo, che ha dato un impulso insieme a Giuseppe Piazzuzzi e altri, prima degli anni 20, anni 30, in maniera consistente. Il capitolo poi è riuscito a salvare da tante depredazioni, molta documentazione. È logico che avendo, essendo stato a sede episcopale fino al 1986, anche molti documenti che riguardano la vita della cattedrale fino allora e sono in curia a Feltre, ma grazie anche alla collaborazione con Don Grado Centra riusciamo a mettere insieme tante cose, alcune bolle di nomina di alcuni vescovi sono su in curia, altre vicende di vescovi non italiani che sono passati per la città di Feltre perché nominati dall'imperatore piuttosto che, quindi ci aiuta sicuramente. Non ci sono solo numeri e contabilità, una contabilità raccontano anche storie. Poi una delle cose interessanti è che da sempre, anche da prima della rifondazione del capitolo avvenuta nel 1804, così come sostanzialmente oggi, perché da allora poi il secondo statuto è stato rifatto negli anni 30 e dopo il compianto di Don Guglielmo Centra ha messo in mano prima della unificazione delle diocesi, la nascita della nuova diocesi, insomma ci sono dei percorsi interessanti. che vanno rivisti, analizzati e portati anche alla conoscenza della popolazione, che sia più fruibile. Esatto, a meno degli storici, per cui facendo questa operazione potrebbe essere interessante riaprire quelle stanze. Ed è bello vedere che siano coinvolti i giovani e quindi i ragazzi del servizio civile. Mi ricordo di trovare un ente che fosse accreditabile dalla presidenza del Consiglio e cominciare insieme ad altri enti un percorso di studio e di conoscenza. Questa è la prima esperienza quindi? Per la concattedrale sì. E speriamo poi che si estenda ulteriormente. Senta, Monsignore, dobbiamo ricordare per la mostra degli ex voto di oggi e di ieri le tempistiche e come fare, no? Le tempistiche sono così. Adesso noi abbiamo aperto mattina e pomeriggio fino al 20 di agosto. Due ore alla mattina e due ore pomeriggio. Quindi dalle 10 a mezzogiorno, che è l'ora più di passaggio sotto il volto del Duomo per dire, no? Il sagrato, eccetera. E il pomeriggio dalle 4 alle 6. Abbiamo di ragazzi e dei giovani che si sono attrezzati per essere presenti. Ricordo poi che sia la cattedrale che il battistero sono visitabili sia il sabato che la domenica grazie a una collaborazione con il Fondo Acoperfeltre. Anche là sono dei giovani e li abbiamo preparati soprattutto per il battistero. Non soltanto come momento di storia e di conoscenza del patrimonio artistico ma anche dal punto di vista di spiritualità. E' certo. E altrimenti se mi manca il messaggio cristiano nei nostri luoghi è ovvio che, insomma, si entra, si guarda come si vede un museo ma mi piacerebbe come lo sono, sono ambienti vivi dove si porta la vita di tutti i giorni così come erano stati portati nei secoli che gli ho svolto per ringraziare della vita di tutti i giorni. E su questo messaggio quindi conclusivo di Monsignor Balcon noi ci salutiamo. Io ringrazio il nostro giovane ospite Eddie, ringrazio ancora Monsignore per essere stato con noi. Buona estate e poi ci ritroveremo naturalmente ancora per raccontare le tante attività che accadono. Grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti.